Questo è il prodotto 55, questo è il top di gama. Se guardi, se vedi è letteralmente la stessa. Un occhio attento può vedere che è leggermente più grande. Leggermente, è appunto lui che non ha questa prova. Che altrimenti non lo faccio dire. Vuol dire che non ha una tecnologica, è umana di lungo. Vuol dire che ha una tecnologica, è un'altra tecnologica. Vuol dire che ha una tecnologica, è un'altra tecnologica, è un'altra tecnologica. Vuol dire che ha una tecnologica, è un'altra tecnologica, è un'altra tecnologica. Vuol dire che ha una tecnologica, è un'altra tecnologica. withenere contro Pilate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.